Vai, 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 Sonic! Vai, Sonic, è vincente! Vecchia... Eh, faccio proprio schifo, sti giochi. Che cavolo, dai, mi ci vorrebbe un gioco nuovo! Non è possibile, non posso continuare con sti catorci! Cioè, guardalo che schifo! Ma l'ho distrutto con un pugno! Ah, proprio roba vecchissima. Ma chi è la porta a quest'ora? Scusate, è notte. Perché dovrei andare ad aprire la porta? Se succedono sempre cose brutte di notte, dovrei proprio smettere di andare da... Ah, beh, andiamo ad aprire, vediamo cosa sarà mai... Ah! Scusate, se qualcuno... Io non ho ordinato niente! Non, non... Beh, non c'è nessuno, ma a sto punto lo ha, por perché no? Vediamo un po'. Un... 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 Un mind boy. Un mind... Ma siamo seri? Ma siamo seri? Oh, beh, 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 stavo chiedendo un videogioco nuovo, allora perché no? Beh, dai, proviamolo, cosa ci potrebbe mai essere di male? Vediamo un po'. Allora, dove mi metto a giocarlo? Direi di mettermi più o meno qua. Metto per terra... Oh, vediamo un pochettino. Ah, ah, ma che cavolo... No, 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 basta, teletrasporti, cose strane, perché devono capitare sempre tutte a me? Non ne posso... Oh, no... Ah, ah, mi stai seguendo! Mi stai... Mi stai... C'ho dietro le calcagne. C'ho dietro le calcagne! Qualcuno mi dia una mano! Mi stai seguendo! Ah, c'ho le calcagne! Corri! Corrirò! Corrirò! Eh, 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 eh... Sono finito dentro l'aeroporto! Non dovevo andare a finire così! Corri! Corri! Faccio il slalom! Scogli slalom! Corri! Ce l'ho dietro! È ancora lì dietro! Perché mi caccia sempre nei guai che i demoni... Non c'entra niente in tutto questo! Corrirò! Corrirò, lo trovo al riparo! Lo trovo al riparo! È ancora lì dietro! Eh, eh, lo faccio fuori, lo faccio fuori! È troppo veloce, non riesco a prenderlo! Corri, corre, corre! Corri, corre, corre! All'aeroporto! All'aeroporto! Non mi prenderei! Aiuto! Qualcuno! Qualcuno! Per amore, c'è nessuno! Ah! L'aiuto! Corri, 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 corri! Non è possibile! Mi sta raggiungendo! Mi sta raggiungendo! È più raggiungendo! Corri, 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 corri! Ah! Ok, 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 ok! Corri, corri, corri! Corri, ci sono quasi! Già sto per fare Già sto per fare Qualcuno mi dia una mano Aiuto Non ti ho credito Non mi sono in pace Ho voluto solo giocare al Game Boy Per favore Stami lontano Allora prima in seguito da Sonic Adesso mi ritorno nel bel mezzo di un cimitero Ok va bene Ma no è tutto nella norma A chi non capitano queste cose Dopotutto io sono solo uno dei tanti Vero? No non è vero Comunque ok mi sono ritornato qua Ed è pieno di gente un po' Resta in pace Te ne sei dato ma non dimenticato Resta in pace Resta in pace Credo che sia un cimitero Ma giusto un po' che Direi Ok Non mi piace profanare proprio le tombe degli altri Però sarò sincero Lì è bloccata la uscita Di qua è più o meno dove sono entrato Teletra spuntato Vediamo cosa c'è qua dentro Allora il fatto è che qua dentro si è aperto Non mi piace affatto l'idea Vorrei smettere Ma Perché ci sono delle Ah È un po' morto Ok direi che ho visto abbastanza per oggi Sì Chiediamo E ce ne andiamo tranquillamente Non voglio avere niente a che fare con tutte queste cose No 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 Non ci siamo capiti bene No 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 Allora Non so chi tu sia Stammi lontano Stammi lontano Tu mi devi stare lontano Aia no 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 La ciammi Aia Sme Non lo posso Ah sì E ti sfido Drei Battaglia rap La regola di questo mondo Se vinco mi lascia andare Ok Lo prendo per un sì Ok Allora lo dovuto battere Rappi Maggi in Sonic Che bello essere finiti dentro un videogioco Sì credo che sia la mia teoria finale Sono finito dentro il videogioco di Sonic Che brutto Ok Ah Capisco ora Vedo Che ti sei portato Da tanti amici Cosa inquietante Ok Bel ritmo Tocca a me Ok Ma troppo facile Ma fai schifo in confronto Sei scarso Ok 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 Easy Ho 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 Ma come credo bene che fare Ok 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 Vai ci sono ancora Sul pezzo Oh lo batto Pretty easy Vai Ok Ok Qui è complicato Ci sono Ok 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 Qua è dura È forte È più forte Rispetto a quello di prima Stava molto Tento Dopo aver battuto un clown gigante Non mi sapevo più di nulla Ok Ci sono Ma è così Vai Di nuovo col drop Sto impazzendo Con cui mi do una mano Ho bisogno di un freno Vai 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 Fai schifo Magincavolo Ti chiamo erodora in poi Non sonic Ha Visto Sto Sonic fallito Ok Vabbè Ce l'ho fatto anche questa volta Bene Credo che il mio compito qua S'è finito Il mio giustiziere della notte È finito tutto Quanto Ok 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 No Pasta Ti prego Aiuto Aiuto Lasciami in pace Lasciami in pace Lasciami in pace Ti prego Ti prego Ti prego Lasciami in pa Scusi signor sonic Potrebbe smetterla Mi sta strangolando Ti prego Fa male Dopo un po' Non mi stringere Ti prego Non mi stringere Ecco Sapevo Inizio a fare i rumori strani Sembra una paperella di gomma Ok Ora che ti sei divertito Mi puoi lasciare giù Scusa Non è molto divertente Per me Perché non la risolviamo A rep questa cosa Ok ragazzi Ci siamo Siamo carichi Lord X Dopo che mi ha strangolato In una maniera Molto brutta Vai Ci penso io Ok Ok Si un tantino più complicato rispetto agli altri Ok Ci siamo Ma sono più bello con la dub guarda che figo Ok no fa schifo contro me Ok Vai Sento che la parte brutta sta per arrivare Ci siamo Ok Ok questa sarà complicata Vai Ok Alla faccia tua mio caro Proprio scarso era Ok 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 No 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 Sono tornato Sono tornato Creeper ciao Ah la felicità dei miei occhi Sono tornato Ero finito dentro il gioco di soli Questi viaggi che cosa mi vogliono dire sempre a me queste cose che devono capire allora no allora regola numero uno mai più prendere giochi trovati fuori casa dentro una scatola lasciata da chissà chi non c'era neanche il franco bollo Quindi sapete che vi dico adesso questo coso no 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 lo devo proprio spaccare lo devo spaccare in mille pezzi nell'asfalto vai via Ok problema risolto dovrò cercare di comprarmi un nuovo arcade oppure mi compro una switch che è sicuramente meglio di un game boy maledetto con sonic.ex dentro Oral della storia non prendere o comprare giochi usati che costano tipo niente o te li danno gratis sotto l'uscio di casa non credo sia una buona idea Grazie a tutti